E adesso è una bella pasta e lenticchia. Ma devi smettere, devo parlare col presidente, la pasta e lenticchia è dopo. E non mangiare. Quando saremo ridimentati coordinatori di Forza Italia. Allora chiamalo. E aiuto coordinatore di Forza Italia. Fratello. De-fi-ce-te. Quello, riunione con la Brambilla. Ho detto Brambilla. L'hai nominata. Va, va, va. L'hai nominata. Devi dire donna roscia, donna roscia. Tu, mi dico, mi dico. Cappelli lisci, quella è una roviglia partita. Chiama, chiama. Io chiama. Dai. Tanto coraggio giusto. Adesso non sta facendo neanche la penichella. Niente, niente. Pronto? Sì, buonasera c'è il presidente? No, il presidente non c'è, è momentanamente occupato. Chi è? Sto facendo una piccola rinuncina. A chi è? Mi ha detto di rispondere io. Chi è? No, chi è lei, scusi? No, sono Bertinotti. Bertinotti? Ci può parlare col presidente? Cosa sta facendo? Senta, rifriò, va bene? Mi fai racconto, non ho parlato. Pronto? Che state facendo? Ecco, adesso stiamo giocando a Dama, la richiama e provo i più tardi. Pronto? Bertinotti? Grazie, dai, va bene, va bene. Grazie? Ma che senti c'è il cazzo? Pronto? Ma Bertinotti? Il comunista? Sì, prego il nome. Ma Fabio diceva a me che ero comunista.